Mangia polvere, mangia polvere, l'originale è un'idea suttera. È qui che è cominciata la mia vita, in questa terra dove la morte non è la fine, ma solo il principio. È qui che Ariel, cercando suo padre, ha trovato qualcosa in più. Due uomini che gli hanno insegnato la vita e l'amore, e i veri motivi per cui valga la pena vivere ed anche morire. In Prima Visione TV, Jane Fonda, Gregory Peck, Jimmy Smith, Old Gringo, Vecchio Gringo, martedì alle 20.30, su Rete 4. Va su nel Montana, tra mandri e cowboy, c'è sempre qualcuno di troppo fra noi. Blajack va dicendo alla Dolly Rapita che vuole con Gringo farla finita. Mi molla una nesca, io le respingo, farti da parte, te l'ordina Gringo. Gringo, Gringo. Così dopo averlo ben ben malmenato, libero Dolly dal lupo affamato. Il sole nel cielo, una palla di fuoco. Sarà a mezzogiorno. Mezzogiorno di fuoco. Quando i caroselli erano in bianco e nero, il sapore della carne Montana era già a colori. Oggi che la pubblicità è tutta a colori, la nostalgia è il sapore di Montana. Montana, torna la carne, che piaceva davvero. Funghi, pomodoro, salsiccia e tutto il gusto di Grana Padano. Grana Padano, un grande bene a tavola. Dovunque siate, ovunque andiate, portatevi solo l'essenziale. Solo oliva e niente acqua. Solo gusto e niente altro. Maschette Polly, aria di rivoluzione. Ciao, Mario! Ciao, bella! Buongiorno. Buongiorno. Dunque, la confettura... La mamma prende questa. Ah sì? E poi un po' di insalata. Sua moglie prende sempre questa. Grazie. E poi... Papà, l'acqua! La mamma preferisce questa. San Benedetto, l'acqua della primavera. Papà, papà, la mamma! Ciao, avete preso... L'acqua San Benedetto. E ho ogni giorno e con te. Questa è la storiella del Grissino innamorato. Tonni, ce ne sono tanti, anche a buon prezzo. Ma io, come Grissino, ne scelgo uno solo. Tonno Riomare. Perché? Ma avete mai sentito il suo sapore? La sua delicatezza? La sua tenerezza? Insomma, se fossi voi mi comporterei come un Grissino. Sceglierei Tonno Riomare. D'accordo? Tonno Riomare. Così tenero che si taglia con un Grissino. Se hai dimenticato l'ultima volta che ti sei epilata le gambe, probabilmente stai usando il nuovo Brown Silk e Peel. La novità è nella testina che cattura subito al primo passaggio ancora più peli. Così le tue gambe sono subito lisce e così a lungo, che dovrai ricordarti dove l'hai lasciato. Nuovo Brown Silk e Peel. Provalo. O ti soddisfa o ti rimborsa. Di nuovo, c'è Cleo. Io? Cleo? Con Soleilibra di Bioethic, io sono libera di godermi il sole in totale sicurezza. La sua dermomelanina pura rinforza la naturale protezione della mia pelle, garantendo una perfetta abbronzatura. Soleilibra, dermomelanina pura, per un'abbronzatura sicura e splendente. Solo olive e niente acqua, solo gusto e niente altro. Vaschette Polly, aria di rivoluzione. Be what you wanna be Taking things the way they come Nothing is as cool as dripping in the sunlight Sipping on Bacardi rum Bacardi, the mixable one Questa è la storiella del Grissino innamorato Tonni, ce ne sono tanti, anche a buon prezzo Ma io, come Grissino, ne scelgo uno solo Tonno Riomare Perché? Ma avete mai sentito il suo sapore? La sua delicatezza? La sua tenerezza? Insomma, se fossi voi mi comporterei come un Grissino Sceglierei Tonno Riomare D'accordo? Tonno Riomare Così tenero che si taglia con un Grissino Per i bellissimi direte quattro? Jane Fonda e Vanessa Redgrave Si contendono la palma di miglioratrice In un film che esplora l'intimo contraddittorio Di una scrittrice all'esordio Sei tu quello che mi ha convinto a scrivere Dashiell Sei tu che mi hai detto Insisti ragazza, hai talento ragazza Non mancherai a nessuno È un momento ideale per cambiare lavoro, cara Giulia, tra poco, su Vete 4